Signore Buono Perché Vedono Ah Ha Cering dal sorger del dì, tu sei il don al sorger del dì, ma ripetimi, 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 un buon bacacone dal balcone, il giardino, il giardino, ma signore, signore, guarda il vino, segui pure, segui pure, e tu il tuo il medestino, lo vieni, figo la scuola, figo la scuola, lo vieni, via di un gioco e sta zitto una volta, per tre soldi guardando tutto, già che il fatto non può stare a punto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì, voi stesso, signore, voi stesso, signore, signore, che crede non posso, come mai diventasti sì grosso, che crede non posso, non posso, qui il salto non fosti così, ah, qui il salto si crede così, il direbbe, ti esiste il ragazzo, tu che direi a me, vale il ragazzo, che rubì, valedetto, valedetto, messo a punto, messo a punto, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia oggi forse sarà, questo no, questo no, chi il cavallo, io l'ho finito salta a reddita, e pazienza, come mai, finiamo questo ballo, ci succederà, dunque tu salta ai giù, ma perché il timore, il timore l'ha rinfinso, aspettando quel caro visetto, ti petà quel sussurro fortuso, voi gridaste lo scritto biglietto, salta ai giù, da un terrore, da un muro, e stravolto con l'ottomo in me, il volo d'un piede, vostri dunque saranno queste carte che perdiste, portile a me, sono in trappola, sono in trappola, fino alla merca, fino alla merca, dite un po', questo voglio cos'è, tosto, tosto, notante, aspettate, sarà forse il sommario dei debiti, non la lista degli osti, parlate, e tu lascialo, lasciami, e parti, parto sì, ma se torno a trovascialo, a me, a me, non temo di lasciarlo, parto sì, ma se torno a trovascialo, di parte, parto sì, ma se torno a trovascialo, a me, non temo di lasciarlo, parto sì, ma se torno a trovascialo, che pot'anzi il fanciullo ridire, perché fare, vi manca, vi manca, il soggetto, il soggetto, rispondi, e l'usanza, subbiati confondi, e l'usanza, mi porvi di soggetto, insomma Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.